La città di Agrigento avrà quest'anno la sua sagra del mandorlinfiore? Questa è la domanda che ci siamo posti in redazione, sulla quale abbiamo cercato di avere delle risposte. Abbiamo contattato gli albergatori agrigentini, nello specifico il presidente di Fedele Alberghi, Francesco Picarella, che purtroppo non è stato in grado di fornirci alcuna notizia in merito. Fino a questo momento, ha detto, non ha avuto ancora alcuna comunicazione ufficiale. Stessa risposta anche del noto organizzatore di eventi Mario Pardo, che i più danno come organizzatore della settantesima edizione. Siamo a metà gennaio e il comune di Agrigento non ha ancora ufficializzato niente sull'atteso appuntamento. Oggi a Palazzo dei Giganti è stato fissato un incontro tra gli stessi albergatori e il commissario straordinario dell'ente comune per parlare appunto della sagra del mandorlinfiore 2015. E' un problema quello dei ritardi organizzativi della Kermes, che si ripropone annualmente ad Agrigento. Come puntuali sono stati ogni anno i buoni propositi lanciati da amministratori e organizzatori, addirittura nel corso della cerimonia di assegnazione del Tempio d'Oro. Proclami che, però, non sono mai stati seguiti da fatti concreti. Anche per l'edizione del 2015 probabilmente si assisterà alla folle corsa contro il tempo per allestire una sagra che potrebbe, invece, se programmata e per tempo, portare ricchezza soprattutto al settore turistico e alberghero. La sagra del mandorlinfiore dovrebbe essere il fiore all'orchiello non solo della città dei Templi ma dell'intera provincia di Agrigento. I turisti che verrebbero ad assistere ai suggestivi spettacoli dei gruppi folk non si limiterebbero certamente solo a quello. Se veicolati e informati adeguatamente dagli organi istituzionalmente competenti potrebbero godere delle tante bellezze che offre il territorio agrigentino. Ma ad Agrigento, del resto, quello dello sviluppo turistico a volte sembra essere solo un argomento da trattare ai convegni. Non ci lamentiamo poi se la provincia di Agrigento è quella dove in Italia si vive peggio.